Consigli essenziali per una vacanza indimenticabile in Albania L'Albania, con il suo fascino nascosto, si rivela una gemma per i viaggiatori alla ricerca di destinazioni autentiche. Tra paesaggi mozzafiato e un patrimonio culturale ricco, offre un'esperienza unica, lontana dai circuiti turistici tradizionali. Decidere il periodo migliore per visitare l'Albania è essenziale per godersi appieno ciò che ha da offrire. L'estate splende per le sue spiagge immacolate, mentre la primavera e l'autunno incantano per le escursioni nei parchi nazionali. Arrivare in Albania è più semplice di quanto si pensi. Con voli diretti da diverse città europee, traghetti dal confine italiano e opzioni terrestri dai paesi limitrofi, l'accesso a questa terra incantevole è a portata di mano. Una volta atterrati all'aeroporto di Tirana, è importante organizzarsi per raggiungere il proprio alloggio. I taxi ufficiali e i servizi di trasporto condiviso offrono opzioni convenienti e sicure per iniziare l'avventura albanese senza intoppi. La scelta dell'alloggio in Albania spazia dagli hotel di lusso alle accoglienti guest house, permettendo a ogni viaggiatore di trovare l'opzione più adatta alle proprie esigenze e al proprio budget, immergendosi così nell'ospitalità locale. La cucina albanese è un viaggio sensoriale che merita di essere intrapreso. Tra i piatti da non perdere, il Bayrek si distingue. Una torta salata ripiena che può variare da spinaci a formaggi. Un vero comfort food. Tirana, capitale dell'Albania, offre un mix eclettico di cultura, storia e una vibrante vita notturna. Passeggiare tra i suoi boulevard alla scoperta di musei e caffè storici, si rivela un'esperienza che combina armoniosamente il passato con il moderno. Berat, conosciuta come la città delle mille finestre, è un gioiello architettonico unesco. Le sue case ottomane, impilate l'una sull'altra lungo la collina, creano un panorama incantevole, raccontando storie di secoli passati. Le spiagge albanesi sono un paradiso inesplorato che attende solo di essere scoperto. Da Dermia Xamil, l'acqua cristallina e le spiagge di sabbia fine offrono un rifugio ideale per gli amanti del sole e del mare. Giro Castra, con le sue strade acciottolate e l'architettura ottomana, è una città da esplorare senza fretta. Ogni angolo racchiude una storia, dalle antiche case di pietra al maestoso castello che domina la città dall'alto. L'Albania, con i suoi parchi nazionali come Valbona e Tet, offre scenari mozzafiato per gli amanti della natura. Queste aree protette sono l'ideale per trekking, escursioni e per assaporare la tranquillità delle montagne albanesi. Butrinto, sito UNESCO, è una tappa imperdibile per chi cerca un viaggio indietro nel tempo. Quest'antica città greco-romana svela secoli di storia attraverso rovine magnificamente conservate, immersa in un paesaggio naturale di rara bellezza. Spostarsi in Albania presenta diverse opzioni, dal noleggio auto al trasporto pubblico. Noleggiare un'auto offre libertà di esplorazione, mentre i mezzi pubblici rappresentano una scelta economica e autentica per vivere il paese da vicino. La sicurezza in viaggio è fondamentale, e l'Albania non fa eccezione. Rispettando consigli di buonsenso come evitare zone isolate di notte e custodire i propri oggetti personali, i visitatori possono godere serenamente delle bellezze albanesi. L'Albania offre esperienze uniche, dalla degustazione di Rakhia, un distillato tradizionale, alle serate folcloristiche che rivelano l'anima culturale del paese. Queste attività immergono i viaggiatori nella ricca eredità culturale albanese, promettendo ricordi indimenticabili. Comunicare in Albania può sembrare una sfida, ma con poche frasi chiave e un sorriso, si aprono porte inaspettate. Imparare i saluti come per sendezze, ciao, e fa le minderite, grazie, arricchisce l'esperienza di viaggio, creando connessioni autentiche. Esplorare i mercatini e le botteghe artigiane offre un'immersione nella cultura locale attraverso il suo artigianato. Dai tessuti tradizionali ai gioielli fatti a mano, ogni acquisto racconta una storia, portando a casa un pezzo dell'Albania. L'ospitalità albanese è leggendaria, con tradizioni che rispecchiano un profondo senso di accoglienza. Essere invitati a casa di qualcuno per un caffè o un pasto è comune, offrendo una finestra unica sulla vita quotidiana. Per chi cerca un'esperienza autentica, esplorare l'Albania fuori dai sentieri battuti rivela gemme nascoste. Villaggi di montagna, antiche rovine e paesaggi mozzafiato attendono i viaggiatori che desiderano avventurarsi oltre le destinazioni più conosciute. Partecipare a feste e festival locali è un modo eccellente per immergersi nella cultura albanese. Da eventi storici a celebrazioni della musica e del cibo, queste occasioni offrono divertimento e comprensione delle tradizioni albanesi. L'Albania offre una varietà di spa e centri benessere, perfetti per chi cerca un momento di puro relax. Tra panorami mozzafiato e trattamenti esclusivi, questi luoghi promettono un'esperienza rigenerante e indimenticabile. Per gli amanti dell'avventura, l'Albania non delude. Con attività come il parapendio e il trekking, il paese invita a esplorare la sua natura selvaggia. Le montagne albanesi offrono scenari spettacolari per un'esperienza adrenalinica. La costa albanese nasconde spiagge da sogno, poco conosciute ai più. Questi angoli di paradiso offrono tranquillità e acque cristalline, ideali per chi cerca una fuga dalla folla e un contatto più autentico con la natura. Viaggiare in Albania con bambini è un'esperienza gratificante. Il paese offre numerose attrazioni family-friendly, dai parchi acquatici alle escursioni in natura, che promettono divertimento per tutte le età e rendono la vacanza indimenticabile. Esplorare la vita notturna albanese significa immergersi in un mix di musica, danza e cultura. Dai club moderni di Tirana alle serate folcloristiche tradizionali, l'Albania offre divertimenti notturni per tutti i gusti. Prima di partire per l'Albania, è consigliabile consultare il proprio medico per eventuali vaccinazioni raccomandate o obbligatorie. Portare sempre con sé una piccola farmacia da viaggio può essere utile per fronteggiare le emergenze. Esplorare l'Albania senza dilapidare i propri risparmi è decisamente possibile. Optare per alloggi economici, godere della cucina locale e spostarsi con i mezzi pubblici permette di vivere un'avventura autentica a un costo ragionevole. Per gli appassionati di fotografia, l'Albania offre scenari mozzafiato, da immortalare nei vostri ricordi. Dalle antiche rovine alle spiagge cristalline, ogni scatto racconterà una storia unica e affascinante di questo paese. Fare volontariato in Albania può essere un'esperienza arricchente e un modo per dare indietro alla comunità. Vi sono numerose organizzazioni che cercano volontari in vari settori, offrendo una prospettiva diversa sul paese. Concludendo, l'Albania, con le sue meraviglie nascoste, la ricca storia e la calorosa ospitalità, merita di essere scoperta. Questa nazione offre molto più di quanto si possa immaginare, rendendola una destinazione ideale per il vostro prossimo viaggio.